Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su LeonTube, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace a questo video Andiamo subito a vedere perché adesso ho riavviato il gioco e c'era un aggiornamento Quindi probabilmente arriva la nuova stagione che dovrebbe essere quella elettrica Quindi aspettiamo un attimo che carica e vediamo rispetto al video che ho fatto Eccola qua, benvenuto alla stagione elettrica Ok, 6 nuove auto elettriche Eventi speciali, la Torridon 1MV e la Rima Concept 1 A vedere proprio il nuovissimo evento sfida e potreste vincere una Wanda elettrica Il nuovissimo evento sfida, andremo a vedere ad Endrobium, al massimo delle stelle Ok, sono nello shop Grand Prix Abbiamo la Volkswagen elettrica e la Tycoon Speed Ok, quindi avremo anche due Grand Prix Andiamo subito a vedere quindi Allora, qui è rimasto tutto uguale Andiamo a vedere gli eventi speciali Eccoli qua Allora, c'è questo del weekend che l'abbiamo visto prima E questo della Concept 1 Abbiamo 28 giorni Si parte subito con quest'auto qua Multi Token Subito come sempre per sbloccare la Rima Concept 1 Andiamo a vedere che auto servono La Tycoon Turbo S Che io ovviamente non ho Probabilmente è nel nuovo pass che è uscito Ma andiamo a vederlo subito Ok, dice che è disponibile Andiamo avanti Come sempre, quindi sono uscite anche le missioni Ok, c'è quest'auto disponibile Ok, andiamo a vedere un po' Questo pass leggendario Che cosa ci offre Ok, ci offre L'inferno Andiamo un po' La Porsche Taycan 5 La Renault Trezor Trezor Insomma Un po' di tutto Un misto Un po' di tutto La Draco Ci offre un po' di tutto E nulla di specifico Da poter completare Quindi hanno messo Andiamo a vedere un po' Quanto costa il pass No, non c'è Allora Ah ok, eccolo qua Andiamo a vedere se sono i soliti 9,99 Eccolo qua I soliti 9,99 Con tutti i vantaggi del pass Andiamo a vedere un attimo ancora L'evento speciale Della Concept One La seconda auto L'Apex O no? Mi sbaglio La Apex Ok, ce l'avrei pure Questa è un'auto Che non ho E forse questa a sto punto Si gioca a gratis Ok Abbiamo questa Chevrolet Questa bisognerà averla Si, questa bisogna averla Tanti bei premi Ok, la Mercedes Questa ce l'ho Nemmeno la guardo Questa non ce l'ho La Porsche 901 GT3 RS Non ce l'ho Tutte auto che si trovano un po' Nello shop Ma tanti premi Per prendere poi la Rimac E qui Riprendo un po' il giro L'Inferno Vediamo se è prova gratuita Questa si prova gratuita La Volkswagen Electric R Dovrebbe esserci il GP Di questa L'Inferno Vediamo se è gratuita No, qui quindi bisogna averla Quindi bisogna provare a sbloccarla In qualche modo Ma il più È la prima auto Andiamo a vedere come si sblocca Che possibilità abbiamo Ottieni progetto Stagione elettrica Ah, ok C'è la caccia all'auto Quindi per la Taycan Ok Che l'hanno aggiunta Perfetto Quindi andiamo a vedere Allora Abbiamo visto l'evento speciale Dobbiamo sbloccare subito Quell'auto Poi ci sono gli eventi Molti giocatori Che sono gli stessi Ovviamente Punti Club Diamo Ok Ok Bisogna fare una gara Allora per vederli Andiamo a vedere quindi I giornalieri Quando l'hanno messo di nuovo Questo l'abbiamo visto Questo è nuovo Con la Draco Andiamo a vedere Ok Sempre il solito piazzamento Premi singoli Ok Avvitamenti Vediamo in quali auto Si gioca Perfetto Possiamo giocare con le auto Tranquillamente Anche senza averle E qui Un altro po' di premi Del gruppo Premi non particolarmente Allettanti Questa qua 27 giorni Per farla Questa prova Stagione elettrica Parte 1 Ok Tagan Turbo Apex Per prendere un po' Di gettoni blu E me ne mancano un po' Andiamo a vedere quante Una Due Tre Ne ho tre Meglio di niente Eccole qua Le cacce L'abbiamo vista prima Eccola La caccia All'auto Taycan Turbo S Quanti pacchetti Due pacchetti Non ha il limite Quindi BMW roster Non ce l'ho Masa Furai Dovrei avere La roster ce l'ho Ma bassa Dobbiamo battere 42 Potrei farcela Più Dobbiamo giocare di continuo Per sbloccare La Taycan Turbo S Andiamo un po' A vedere La Taycan Turbo S Quanti progetti Ci vogliono Andiamo un attimo Vediamo un po' Allora Andiamo un attimo A vederla Ok Ecco qua Andiamo un attimo A vedere qua Quanti Eccola qua L'auto La vediamo Una bella Porsche 4 stelle 5 benzina Una macchina rara 15 minuti È una classe D 15 minuti Per la ricarica Sono abbastanza Eccoli qua Gli stage Li vedete Sono 128 128 progetti Per completare Quindi le 4 stelle Abbiamo 2.500.000 crediti Per maxarla Più i pezzi epici Altri 3 milioni Un totale di circa 6 milioni e mezzo All'incirca Quindi abbiamo visto 128 stelle Speriamo che il drop Sia buono Così da poterla Completare Velocemente Poi vediamo Se c'è qualcos'altro Ok Niente Quindi hanno messo La nuova stagione Finalmente Al contrario di prima Però non era partito L'aggiornamento Ok Con questo video È tutto Se vi è piaciuto E se anche voi Volete provare a prendere La Porsche Taycan Turbo S Scrivetelo nei commenti Mettete un bel mi piace al video Condividetelo con i vostri amici Non dimenticate di iscrivervi Al canale E di cliccare la campanella Per non perdere I nostri aggiornamenti Ciao a tutti Scriviti 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 Scriviti